La fede cattolica conduce ad una giusta comprensione della persona da declinare secondo tutti gli aspetti del governo e dei processi decisionali. È quanto ha affermato il Papa, ricevendo in Vaticano i partecipanti alla Conferenza International Cattolica e Legislators Network, una rete di parlamentari cattolici di tutto il mondo nata nel 2010 con il patrocinio dell'Arcivescovo di Vienna, il Cardinale Schomburg, e di David Elton, membro cattolico della Camera dei Lordi. Sottolineando l'aumento dei membri della Conferenza, in particolare provenienti dall'Africa, il Pontefice è esortato ad un impegno ispirato dai principi morali della Chiesa, al fine di costruire una società più umana e più giusta. L'invito è stato quello di costruire ponti di dialogo tra diverse prospettive politiche, di promuovere una maggiore cura per gli indifesi e gli emarginati, specialmente i molti che sono costretti a lasciare la loro patria. Ricordando la necessità di portare al mondo la speranza che Cristo, Papa Francesco ha evidenziato che agli occhi di Gesù nessuno è insignificante, nessuno deve essere scartato in qualsiasi fase della sua vita.